I prossimi relatori, l'intervento è utilizzare software didattico in modo consapevole ed emanciparsi dai rivenditori con Wildos. Marco Ronchetti, Massimo Bosetti, Pietro Pilolli e Matteo Ruffoni. Sono qui Matteo Ruffoni e Massimo Bosetti. Buongiorno a tutti, sono Matteo Ruffoni, insieme a Massimo Bosetti facciamo parte dell'IZZA, Laboratorio di Innovazione Tecnologica a Supporto dell'Apprendimento. Noi due siamo insegnanti, come dice il Massimo siamo i commerciali del laboratorio, quelli che vanno in giro a farlo usare, il software libero. Pietro che doveva essere con noi, che però è molto più brutto, quindi non perdete niente nella presentazione, non è venuto all'ultimo momento veramente per un grande disguido. Marco Ronchetti che è il prof universitario è quello che ci lascia andare in giro a fare i bravi ragazzi e quindi tutto sommato lui non viene mai ma ci lascia andare. Allora, come prima la presentazione la dividiamo più o meno in due o tre parti, vi parlo un attimo di quello che abbiamo fatto ultimamente, poi Massimo vi parlerà della nostra storia e poi concluderemo un po' insieme dicendo due o tre cose su che obiettivi abbiamo e quello che siamo. Innanzitutto noi siamo diventati, prendetelo tra molte virgolette, famosi grazie a questo strumento che è uno Wiimote. Massimo una sera, un giorno d'estate mi ha fatto vedere che con 50 euro e una penna infrarossi si poteva creare una lavagna digitale facilmente con la Wiimote, in quel momento nelle scuole italiane soprattutto nella provincia di Trento si stavano spendendo milionate di euro per acquistare le lavagne interattive multimediali e abbiamo cominciato l'avventura, abbiamo messo insieme un po' di amici software libero, abbiamo trovato Pietro in un centro sociale e siamo andati in giro a dire usate software libero grazie alla lavagna. La lavagna è diventato il nostro cavallo di troia, mentre prima era più complicato andare in una scuola e dire usate Linux, grazie alla lavagnina, prima volevano la lavagnina fatta con lo Wiimote, disegnavano e poi gli raccontavamo che stavamo usando software libero. Pietro nel 2011, nelle vacanze natali 2010-2011 ha creato una distribuzione apposita, non possiamo proiettarla, ne sono stato tanto bravo con gli snapshot, su cui il computer li sta girando, è la Wield, WI, lavagna digitale, il nome lo si deve a lui, più OS, il mio inglese fa sempre schifo, è l'operative system, sarebbe il sistema operativo di la Wield. Cosa è successo? Grazie a Linux e alla sua versatilità e flessibilità, tutta la distribuzione sta su una chiavetta, che è una cretinata per tutti i nerd del mondo, ma non per le maestre, che solitamente non sono nerd, e mentre prima non volevano mai usare un sistema operativo, Linux è difficile, non si capisce niente, c'è quella roba tutta nera con i caratteri bianchi che non serve a niente, se non a dire fai il delicato, il cotone, la lana, adesso metti dentro la tua chiavetta, tappare un desktop che è come quello là e le cose funzionano. Quando la togli il computer è normale, quindi l'insegnante dell'ora dopo, il preside, la maestra, il tecnico di laboratorio, non ha niente da dire, le cose funzionano. Vera una cosa che ha detto Renzo prima, ci vorrebbe molto più internet e molte meno cose per far funzionare bene le scuole, ce la faremo anche su quello, libero soprattutto. Quindi, con una distribuzione funzionante su chiavetta, poi la descriverò anche un attimino da un punto di vista tecnico, di software libero, cosa siamo riusciti a fare? A creare un antidoto alla vendor lock-in. Tutte le lavagne interattive multimediali vendute alle scuole, attraverso il ministero o attraverso la nostra amatissima provincia autonoma di Trento, praticamente cosa obbligano a fare? Da noi a Trento, possiamo dirlo, l'azienda si chiama Smart, ti vendono la lavagna, tutti i software sono fatti dalla Smart, funziona solo con quei software lì e piano piano intrappolano gli insegnanti. Quindi, non solo ti faccio un primo contratto di licenza, ma perpetuerò per molto tempo la dipendenza da un unico fornitore di software. Grazie alla bravura di Pietro, all'insistenza del Matteo, alla forza del Max che va in giro, abbiamo fatto in modo che la Wild OS vada su quasi tutte le lavagne, su qualsiasi hardware. Si attacca e magicamente le cose più o meno funzionano. Non è sempre così, è software libero, quindi bisogna lavorarci ogni tanto, ma questa cosa praticamente è libera anche le lavagne dalla dipendenza dei rivenditori. Perciò, lavagnina fatta con la Wii, lavagne che funzionano e usciamo, gli insegnanti cominciano a diventare, poi vedremo più nei dettagli, quei ricercatori, insegnanti, attori del sapere. I ragazzi possono giocare, perché poi lì possono distruggere la chiavetta, tanto la rinstalli. Come dice Cantaro del Majorana in internet, gli faccio installare Linux tutte le volte che entrano in classe e poi si ricomincia a giocare. Il lavoro di Pietro, vorrei descrivere un attimo, la Wild OS è una Lubuntu, come sempre, come tutte le compagnie di software libero, abbiamo appena... Ah, lui, abbiamo, perché ce la tiriamo, ci vantiamo, ma l'ha fatta lui. Abbiamo rilasciato la 2.01, ma siamo stati un po' affrettati nel farlo. Abbiamo la 1.8 che funziona molto bene e la 2.01 sta lavorando per noi a Trento e la mette a posto e speriamo che per settembre, quando ricominciano a scuola, avremo la Lubuntu 2.01, che è collegata ai rilasci di Ubuntu LTS, la 12.04 e la 2.01 si rifà alla 12.04. Quindi ci tiriamo dietro tutti i problemi della 12.04 e aggiungiamo i nostri problemi e dobbiamo avere il tempo di maturare come le pere, le fragole, le rape del mio orto. Una volta che abbiamo quello, comunque, l'idea della distribuzione, non so se riuscite a vedere il desktop o se si è già avviato salvaschermo, è quella di avere un sistema operativo interamente pensato per la lavagna. Non so quanti di voi frequentano una scuola e quanti di voi la scuola frequentano insegnandoci, però quando si accende una lavagna solitamente bisogna aprire il sistema operativo, poi attraverso dei menu aprire i software per usare la lavagna. Questi software, per esempio, fanno una cattura veloce dello schermo e poi si disegna sulla cattura dello schermo. Questa maniera di lavorare, secondo Pietro e anche secondo noi, l'abbiamo condiviso, non è esattamente naturale. Questa distribuzione ha un'interfaccia che assomiglia molto di più a un'interfaccia da telefonino. Pietro è arrivato insieme a Shuttleward, erano loro due che l'hanno pensata, di fare tutto con un clic solo. Quindi abbiamo una lavagna che viene utilizzata attraverso dei pannelli simili al telefonino. Sarebbe bello arrivare all'installazione delle applicazioni più o meno simile al telefonino, ma con pazienza arriveremo anche su quello. E quindi abbiamo subito a disposizione tutti i software. Si va da conosciutissimo, esercitativo GcomPree, ad Ardesia, che è il primo software che Pietro ha fatto, che è un annotatore di schermo su schermo vivo, cioè ci può fare andare un video e puoi disegnarci sopra mentre va il video, poi J-Click, poi il solito libero office ovviamente, InScape, Pencil e chi più ne ha più ne metta. Su internet oramai siamo diventati abbastanza piratoni, ci si vede un po' dappertutto su YouTube, su Vimeo, trovate un sacco di video che fanno vedere l'utilizzo della lavagna. Abbiamo per tutti l'autorizzazione del preside, lo dico in pubblico perché siccome facciamo riprese dentro le scuole con bambini, dobbiamo fare riprese sempre con i bambini che fanno un'attività didattica, in un insieme e solitamente non dobbiamo dire in che posto stiamo facendo la cosa perché sennò diventa un supermercato per pedofili. Allora, Wild OS e l'Elim, vi hanno già parlato quindi l'assalto, che sia un Ubuntu derivata direi che l'abbiamo fatto. Una cosa importante della Wild OS è che i programmi che Pietro cerca di mettere a posto, con tutte le difficoltà del caso, arrivano dalla programmazione partecipata. Vedremo dopo in quanti siamo per bene nella lista, ma c'è un insieme rilevante, qualche centinaio di insegnanti, qualche decina di programmatori, studenti, mamme, genitori, chi più ne ha più ne metta, partecipano tutti allegramente a una mailing list e dalle esperienze scolastiche quotidiane poi cerchiamo di mettere a posto il software. Ovviamente non è un lavoro che si fa con la bacchetta magica, quindi non è che quando uno ha l'idea di fare le pizze con la lavagna multimediale poi il giorno dopo gli arriva il software che fa le pizze. Ma diciamo, soprattutto io e Massimo, che siamo due non espertissimi di informatica, ma utenti avanzati, definiamoci così, siamo i mediatori tra la lingua delle maestre, non si impizza per non so dove sghizzare, e la lingua del programmatore che se fai controllare il desk più F1, 74, 32, 48, parte tutto. Noi traduciamo tra queste due lingue, la cosa ci porta via un paio d'ore al giorno, non pensiate che non è un lavoro semplice, e poi ogni tanto deve essere fatto anche in simultanea, e riusciamo a portare avanti la vaccina. Siamo in crescita, la lista cresce di uno o due partecipanti al giorno, ogni tanto tiriamo su più iscritti, cerchiamo programmatori, ma poi entreremo nel merito. Vi passo Massimo che vi racconta la nostra storia. Buongiorno a tutti, io vi racconto un pochino come è nato il nostro progetto, che ormai va avanti da due anni e mezzo. Prima di tutto vorrei dire che mi trovo assolutamente d'accordo con quanto ha detto prima Renzo, dobbiamo liberare la creatività, e per farlo molto spesso bisogna far crollare dei simulacri. Il simulacro con cui noi ci siamo trovati a confronto erano le lavagne interattive, che la provincia autonoma di Trento ha debitamente fatto cadere a pioggia su molte scuole, e grazie però a questo processo noi ci siamo trovati nella situazione di poter proporre una cosa alternativa che liberava effettivamente la creatività degli insegnanti a questo punto. E non solo, aveva un fattore di vantaggio anche nei confronti degli studenti, perché quando uno entra in classe con un aggeggio del genere, l'ho sperimentato in una classe, l'anno scorso lavoravo in una quinta di liceo scientifico, entrando in classe con questa aggeggio e fargli vedere che si può trasformare da videogioco in uno strumento didattico d'apprendimento, permette di far cambiare l'approccio con cui anche gli studenti vedono l'insegnante. È proprio un modello, un paradigma diverso. Non solo, una delle cose che ci ha sempre, su cui abbiamo voluto focalizzare l'attenzione, era come far crescere negli insegnanti le competenze, le vere competenze, riguardo alla computer science. Non ci andava il modello basato sulla formazione, cioè fare corsi di formazione. Allora abbiamo pensato di poter partire con un piccolo gruppo di insegnanti già, diciamo così, forti, schillati, li avevamo definiti, e su questo piccolo gruppo di insegnanti inserire un accompagnamento, un tutoraggio molto più puntuale. essenzialmente noi seguiamo, seguivamo gli insegnanti nelle attività didattiche, nella programmazione, nella creazione degli oggetti d'apprendimento. E non solo, molto spesso ci capita di entrare direttamente in classe per lavorare con gli insegnanti e per produrre le attività didattiche che sono state preventivamente progettate. Il primo step del progetto, We4D, da 2010, ha coinvolto circa una dozzina di insegnanti e una dozzina di istituti su tutto il territorio, su tutti gli ordini e gradi di istruzione. Abbiamo tentato anche un approccio con le scuole dell'infanzia che però ha avuto degli strascichi non espressamente favorevoli. Dopo sei mesi di progetto si è deciso di passare a un secondo step perché era stato molto gradito dalla parte degli insegnanti e in questo secondo step avevamo come mission di allargare, quindi di aumentare la platea degli istituti e degli insegnanti. E qua ci siamo trovati in difficoltà perché è un piccolo gruppo, anche se compatto, alla fine se viene smembrato e viene delocalizzato rischia di perdere le sue funzionalità principali e il nostro core era di lavorare a stretto contatto con gli insegnanti per produrre didattica. È solo che se siamo in due e dobbiamo andare da 50 persone diventa che siccome ci sono 24 ore non si riesce a essere ubiqui allora quello che è successo è una diminuzione drastica della qualità del lavoro. Fatto scorta di quello che abbiamo imparato nel 2011 abbiamo dato un nuovo avvio al progetto con un nome nuovo Olympos che proprio significa LIM più Open Source perché l'innesto della WildOS su questo filone cioè di We4D cioè utilizzare uno strumento ha permesso di spostare il focus dall'oggetto in sé all'oggetto del contendere cioè insegnare attraverso l'Open Source. Il poter andare a inserire una chiavetta e utilizzare qualsiasi hardware farlo partire direttamente con un software penso con un sistema operativo Open Source ci ha permesso di ritornare al modello che aveva funzionato nel 2010 cioè un modello di lavoro a stretto contatto con gli insegnanti e con gli studenti. Faccio presente che ultimamente ho installato non so in quante scuole penso più di una centinaia di distribuzioni WildOS. Una delle cose complicate che c'è nella scuola è la relazione tra i vari fattori la scuola non è fatta solo di insegnanti un fattore principale nel funzionamento soprattutto dell'informatica sono i tecnici che ci sono poco e molto spesso poco competenti perché è così insomma molto spesso prima facevano non si sa che lavoro e poi vengono traslati a fare i tecnici informatici oltre questo c'è il problema che magari un tecnico ha a che fare con delle scuole complicate cioè con una logistica complicata tanto per fare un esempio una situazione dove c'è una scuola ma con cinque plessi in una valle dove magari per passare da una scuola all'altra ci sono 20 chilometri e magari ci sono in ogni scuola ci sono delle aule informatiche diventa davvero difficile gestire questa situazione il modo con cui noi tentiamo di scavalcare questo problema è responsabilizzare l'insegnante perché la libertà la libertà va a pari passo con la responsabilizzazione che è il contraltare dell'autonomia uno non può essere autonomo e responsabile la responsabilità però da un punto di vista informatico vuol dire che l'insegnante deve avere la libertà didattica di inserire e installare i propri programmi sul computer della scuola se no non ha senso se è uno strumento didattico deve essere in mano all'insegnante e non al tecnico il tecnico deve essere portato a fare altre cose le cose importanti che deve fare il tecnico sono le infrastrutture che mancano le scuole quasi tutte le scuole anche in Trentino dove ci mantiamo di avere la banda larga ovunque e la fibra ottica ormai arriva in tutti gli ospedali però non hanno pensato magari di collegare alle scuole grazie a Pietro una delle cose che ha funzionato molto è stato che durante l'altra pausa invernale adesso che Pietro è a Natale porta felicità e consiglio è stata l'integrazione di un sistema di text to speech cioè di lettura del testo all'interno della distribuzione questo ha fatto diventare la Wild OS uno strumento molto potente per affrontare disabilità di tipo dislessia discalculia no però difficoltà di lettura del testo e quindi e questa è la cosa interessante prendere questo strumento tecnico che è stato realizzato dall'idea di Pietro si in Francia ovviamente ma integrarlo integrato nella distribuzione grazie a Pietro però noi siamo riusciti a traslarlo subito in un progetto didattico abbiamo coinvolto una decina di scuole queste dieci scuole gli è stata data una chiavetta e questi dieci insegnanti l'hanno provato con gli studenti gli è stata data una validazione scientifica è interessante perché dare una validazione scientifica e formale istituzionale porta fuori dalle cantine dei laboratori dove lavoriamo tutti noi porta il lavoro che noi facciamo a un livello più istituzionale e quindi di riferimento con cui devono fare riferimento anche i politici poi perché questo è quello che noi dobbiamo fare portare quello che noi facciamo a livello di confronto politico perché se no rimaniamo tutti a lavorare con gli stessi e tra di noi e ce la raccontiamo sempre dobbiamo riuscire a far girare la ruota e la velocità con cui noi riusciamo a muoverci da questo punto di vista è molto superiore quella con cui si riescono a muovere gli altri questo è uno dei punti di vantaggio che ha il software libero ma che anche si connette con la libertà che hanno le persone noi ci muoviamo liberamente siamo molto precari ma questa libertà ci dà la possibilità di svicolare un po' come l'acqua non ci fermiamo di fronte ai muri amministrativi al muro di gomma amministrativo semplicemente lo scavalchiamo e questo progetto è andato molto bene altri progetti che stiamo portando avanti è riuscire a spostare il focus nell'introduzione dei computer in classe spostandolo dal computer in sé quindi dall'hardware deficiente spostarlo invece sulla cosa che ci interessa cioè far apprendere attraverso le nuove tecnologie e quindi non chiamiamo più neanche web 2.0 ma quello che ci interessa è che la mente e il cuore delle persone diventi 2.0 la capacità di interagire la capacità di collaborare la capacità di condividere esperienze maturare perché solo così solo in questo modo riusciamo a far crescere quello che ci sta intorno perché poi alla fine è quello che dovrebbe essere l'obiettivo finale della scuola far crescere le persone in maniera tale che poi questa crescita diventa una crescita collettiva e su questi progetti che sono progetti realizzati per ora sono solo in fase di programmazione e verranno portati avanti l'anno prossimo l'idea è di strutturare reti di scuole che collaborano attraverso con dei computer direttamente in classe delocalizzati non parlando più di aule informatiche assolutamente almeno nelle scuole elementari nelle scuole medie la mia idea è che non esistano più le aule informatiche perché l'informatica ormai è trasversale non ha più senso dire che c'è un'aula adibita a questo ma invece ha più senso dire che gli strumenti che vengono utilizzati stanno in classe il luogo deputato all'insegnamento e all'apprendimento e questo è il focus quindi quello che noi abbiamo cercato di fare con tutto questo lavoro è stato alla fine insegnare essere più consapevoli dare ai docenti ai maestri uno step in più quelle competenze alte cioè la consapevolezza la capacità di condividere il sapere che è necessario e le emancipazioni che in fondo queste qua sono le idee base del software libero la provincia di Trento adesso si sta attivando molto ma di questo ve ne parlerà Matteo come volevo dire Massimo non ha dedicato abbastanza tempo al passaggio dei risultati scientifici grazie a lui un software inventato da Pietro che se lo vedete è proprio nerd in sei mesi ha ricevuto una validazione con i timbri della provincia autonoma di Trento il resto d'Italia è molto più grande è vero che Trento spesso è un faro per il resto d'Italia su un sacco di cose e riuscire a prendere una gigiatina da Nerdoni e portarla dentro l'ufficio dell'assessore fargli fare un progetto coinvolgere dieci scuole tutto fatto da lui nel giro pensate ha avuto di tempo un mese da quando ha avuto in mano il software a quando abbiamo avuto i documenti è passato un mese e mezzo via dai quindi il lavoro è notevole e questo ci serve molto è una realtà secondo me molto italiana perché anche questo software ha origine in Francia dove ci sono ministeri assessori che se vedono una cosa bella vanno lì e gli dicono tenete i soldi fate qualcosa di bello andate avanti penso a J.Click che è stato fatto in Catalunia ma anche a altri software che poi abbiamo usato in provincia di Trento è successo tutto questo e noi ci siamo impegnati anche a attraverso sotto mentite spoglie come Stanislaw Muninsky abbiamo partecipato a un gruppo che è riuscito a fare una proposta di legge un disegno di legge a favore del software libero che è venuto fuori da un calderone di grande compromesso io sono un democratico e ritengo che per quanto siamo bravi e intelligenti però siamo una notevole minoranza della popolazione italiana che ha questa sensibilità e vi leggo giusto vabbè ovviamente è un disegno di legge molto grande e quindi non non c'è tempo per leggere tutto ma vi vorrei leggere solo il comma 2 dell'articolo 6 che dice fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 le istituzioni scolastiche e formative provinciali usano esclusivamente FLOS nella loro attività didattica questo è quello che a persone come me e Max permette di andare da un preside da una direzione e digli guarda usa software libero non solo perché sono quello che ti ha sempre aggiustato la stampante perché questo è quello che facciamo realmente ma proprio perché c'è scritto dentro una legge una legge sappiatelo perché se no poi passo per quello che incensa le leggi è un punto di partenza non è un punto di arrivo del software libero il software libero e la condivisione del sapere è cultura sono cultura che devono permeare la società non sono leggi le leggi spesso si fanno e poi chi le rispetta siamo in Italia il paese in cui si fa un sacco di leggi e nessuno rispetta quindi non illudiamoci però è una cosa che ci serviva da tempo e lì l'abbiamo fatta la nostra mailing list We Libera la Lavagna ha 280 iscritti 30 sono piuttosto attivi inventano un sacco di cose mi piace citare qualche nome Paolo Mauri Mauro Baldrani Luca Perassoner mi sembra Perasson di Udine ovviamente ci siamo noi Elisabetta Nanni Stefano Salvi di Mantova che è coinvolto nell'organizzazione di didattica aperta a Mantova abbiamo tirato dentro anche Fausto Picchi ultimamente che si sta sbattendo a Mantova per didattica aperta avremmo bisogno di far entrare qualche programmatore possibilmente di quelli che non tirano fuori flame ogni due secondi che è uno sport fatto e sappiate che è una lista aperta dove le persone non hanno scelto prima di utilizzare software libero lo scelgono mentre partecipano alla lista quindi per esempio non esistono gli OT non esistono gli out of trade si può parlare di tutto basta che ci abbia voglia di confrontarsi e quindi piano piano noi usiamo software libero siamo convinti di quello che facciamo ma chi è convinto di quello che fa non ha paura di confrontarsi con gli altri si confronta quotidianamente cosa ci manca in questa lista cosa ci manca in questo movimento riusciamo a produrre buone cose come supporto informatico siamo abbastanza diventati bravini stiamo cominciando ora con un po' di fatica a produrre contenuti didattici quindi avremo bisogno anche di insegnanti che entrino magari non gliene freghi moltissimo dell'informatica ma tirano fuori idee e poi le riportino scrivendole spiegando l'attività insomma ci sono dei modelli abbastanza standard per riportare contenuti didattici Massimo è un espertone molto più di me quindi io sono un po' più rustico su queste cose però insomma c'è modo di farlo vi faccio un velocissimo esempio questo attrezzino camminando per strada abbiamo scoperto che ha dentro anche un accelerometro Daniele Zambelli di Verona qualcuno di voi lo conosce espertone di Python insegnante anche lui ci ha scritto il programmino Python per tirare fuori i dati l'abbiamo fatto ad ondolare tiriamo fuori i dati dall'accelerometro e studiamo le sinusoidi oppure in un'altra maniera ho fatto saltare dei ragazzi tiro fuori la parabola insomma abbiamo studiato la parabola tutte attività didattiche molto significative sono stati pubblicati un sacco di video penso a quelli di Giuseppe Tamanini in cui si spiegano cose fisiche molto rettiline uniforme un sacco di cose che poi si fanno a scuola perché spesso il problema del software è quello che il software dovrebbe fare delle cose che a scuola facciamo veramente pensate per esempio GeoGebra ci abbiamo messo un po' di anni a produrlo ed è il primo che assomiglia a qualcosa che facciamo veramente a scuola in realtà andrebbero fatte ancora due o tre cosine ho in mente un progetto francese si chiama VX Geometry che ti dà il raggio insomma fa le cose un po' più per me però così è questo è un progetto nato dentro la lista c'è un deb scaricabile dal sito e si può usare e ci sono almeno lì è un po' un trucco perché li ho fatti io ci sono anche dei documenti di attività didattiche che si possono trovare sulla lista perciò uno dice a Genova so che stanno facendo qualcosa io li prego in ginocchio tutte le volte ma loro non pubblicano quello che hanno fatto abbiamo fatto delle cose bellissime però scrivetele che così le vediamo i nostri due siti di riferimento sono wield.it dove trovate le ultime novità insomma è una veloce vetrina mentre wieldos.wikispaces.com è il posto dove stiamo costruendo il manuale di tutto quello che facciamo di tutto il software che c'è di tutte le idee che abbiamo da documentazione pedagogica è tutto un bel calderone non siamo mostruosamente organizzati io sono uno che pensa che quando ci si organizza troppo poi vuol dire che nessuno più voglia fare un cazzo per fare le cose bisogna fare un po' di casino perché se non si fa un po' di casino poi non si fanno più le cose però ci proviamo ecco noi abbiamo finito di presentarci credo che possiamo dibattere tutti alle grame grazie a Matteo e Massimo e anche a Renzo mi pare che questa sessione si può proprio sintetizzare con una frase software libero didattica e creatività dalla teoria alla pratica perché proprio c'è stato un excursus di questo tipo io lascerei lo spazio ad alcune domande ovviamente noi abbiamo lavagne e smart board ovviamente è stato dato poco risalto a questo lavoro che abbiamo fatto in tre classi ci siamo divertiti a costruire io solo ho seguito un po' organizzativamente anche se la cosa non piace ma se no non veniva fuori niente con tre prime ho seguito i lavori di queste tre classi ripeto la WID OS è utilizzabile sulle smart board cioè utilizzando l'infrastruttura smart board non il software quindi questo è stato proprio una cosa che abbiamo scoperto che ha scoperto Pietro come ricerca la cosa interessante è che tutte le lavagne interattive bene o male quasi tutte sotto sotto anche se c'è un driver proprietario ma sotto sotto utilizzano lo stesso sistema di calibrazione e noi con un piccolo software un piccolo pacchetto che si chiama Xinput underscore calibrator facciamo funzionare qualsiasi sistema touchscreen è una cosa incredibile anche i proiettori interattivi quindi basta collegare la smart board al portatile via USB e magicamente con la WID OS funziona eliminando molti problemi che hanno i software di funzionamento i driver di funzionamento proprietari perché è innegabile che ce ne sono parecchi molto spesso sono poco precisi hanno malfunzionamenti e con queste scamotage noi siamo riusciti a bypassare cioè a spostare il focus dal remote all'oggetto del container cioè la didattica indipendentemente dallo strumento dall'hardware che poi è questo che è più interessante chi se ne frega che hardware usi va bene hai comprato i proiettori interattivi perché sei medio ricco hai comprato la smart board perché sei straricco oppure sei sfigato e usi il remote oppure sei smart e usi il remote ma chi se ne frega l'ambiente di lavoro è uguale è equivalente te cambi scuola perché sei un precario e tra due anni ti spostano in un'altra parte non è che devi rifarti tutta la didattica hai gli stessi strumenti su qualsiasi hardware hai lo stesso ambiente di lavoro lo stesso ambiente d'apprendimento che le aziende spacciano come il loro software è l'ambiente d'apprendimento la realtà è che questo è un vero ambiente d'apprendimento perché è indipendente dalla scatola su cui si usa quando vai alle scuole elementari gli fai vedere sto coso è un gioco esatto io sono entrato in quinta con quelle mi hanno guardato stralunato sono entrato in quinta col DS io l'ho smontato davanti e mi hanno guardato come se stessi facendo non lo so ma io l'ho smontato davanti mi serviva a me se era rotto lo stavo riparando davanti ai loro occhi sì sì e loro a quel punto si sono molto più interessati al certo viene perché nel loro vivere nel vivere tutti anche io c'ho a casa la Xbox questo me lo sono comprato solo il telecomando è uno strumento con cui con cui si 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 confrontano giornalmente e fargli vedere che questo strumento di gioco può diventare una cosa utile attraverso la creatività di questo ragazzo americano cioè fa capire che ehm che sono le idee che contano non sono gli strumenti cioè sono le idee quelle che le persone possono mettere in campo per spostare ehm la prospettiva perché la creatività è vedere una prospettiva diversa sulle stesse cose c'è una persona creativa no? come diceva lui c'è 200 modi per usare una graffetta è semplicemente perché tra quei 200 modi ad esempio non si pensa che la graffetta debba essere alta così ma può essere alta 20 metri e quindi non focalizzandosi su come è l'oggetto e su questo ci riescono molto bene gli bambini perché non hanno preconcetti così forti come ce li abbiamo noi hanno davvero la creatività vuol dire avere idee innovative vedendo in maniera diversa agli stessi problemi e trovare soluzioni nuove agli stessi problemi che è quello che dobbiamo fare se vogliamo uscire da questa situazione di crisi bisogna che ci stacchiamo dall'estetica eh è tanto bello vedere qualcosa di proprio anche se brutto che funziona quante volte ci siamo appassionati a eh di un aereo fatto con due stecche di legno i ragazzi devono trovare questo perché piuttosto che avere un giocattolo di cui sono spettatori come bellissimi smartphone o tavolette grafiche se hanno a mano uno strumento più semplice ma dove c'è il loro cuore che batte li impareranno veramente grazie ci sono altre domande scusate allora se qualcuno ecco allora sta arrivando il microfono perché si è ricorsi alla mailing list anziché un forum che è più comodo per organizzarsi sono poche le persone che su questa mailing list perché secondo me sono scomode le mailing list diciamo che eh tu lo sai si cioè il problema è che lavorare con gli insegnanti devi stimolarli costantemente sì ma a volte succede che tipo su una mailing list ti arrivano quelle 30-40 mail al giorno sì ti posso arrivare anche un bot una volta 70 una volta in un giorno ne sono arrivate tipo 70 su una mailing list questo è il bello e il brutto della mailing list molti insegnanti si trovano qualche insegnante si trova un po' spesato all'inizio però è molto confortato dal fatto che appena fa una domanda gli vengono date tante risposte e questo ti posso assicurare che vuol dire avvicinarsi far avvicinare il dialogo fare in modo che dialoghini e quindi connettere insieme questi due mondi che sono separati ma sono separati dalla nascita cioè se uno fa un insegnante di lettere ti assicuro che non c'entra niente con un informatico nel 99,9% dei casi e riuscire a farli dialogare è molto complicato molto complicato perché il modo di pensare di un informatico e io lo conosco bene con Pietro è assolutamente diverso già dal mio che sono un fisico come formazione io ho un'altra visione del modo con cui devono essere affrontati i problemi e quindi se un insegnante va su un forum dove vengono discusse le cose in un certo modo si stacca e la mailing list invece è uno strumento più agile per lui però effettivamente nella complessità sarebbe il caso di trovare una soluzione a voi il problema si oppure bisogna anche mettere i filtri per avere tutte le discussioni a parte ma volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Max noi veniamo da un'esperienza di tre anni di discussioni con gli insegnanti dentro la mailing list mai successo di avere 70 mail al giorno alcuni giorni 10 in tre anni quindi per tutti i giorni tieni conto che per tenere in piedi a mailing list comunque io personalmente ci metto un'ora due ore tutti i santi giorni che Dio manda in terra e Max più o meno lo stesso lui fa anche una parte un po' più ad persona ma la comunicazione con la comunità viene anche con i telefoni quindi non è cioè potremmo mettere anche il forum se vuoi sarebbe una cosa in più poi però dovremmo anche ogni volta pensare che ci deve essere cioè non c'è il programma che risolve le relazioni tra gli esseri umani non è ancora stato inventato anche se Luca una volta mi ha detto il contrario le relazioni vanno coltivate ciò che per me è stato più interessante non sono stati i software che mi permettevano di lavorare con la lavagna multimediale cioè di andare a fare i cerchietti sopra o altro la cosa più ovvia e più utile è stata quella di usare gli altri software cioè io devo far vedere qualcosa con GeoGebra o con Internet Explorer la lavagna luminosa mi è stata utile perché i ragazzi vedono esattamente quello che sto facendo il programma quello specifico qualche volta torno sulla lavagna normale perché qualche volta viene anche meglio diciamo quindi il più che c'è dal mio punto di vista è il fatto che sei immerso nell'ambiente del computer e quindi hai modo di interagire con i programmi e far vedere i ragazzi come si utilizzano o quello che loro potrebbero dover rifare a casa quando sono soli nell'ambiente della classe più che il software che ti fa fare i disegnini catturare l'immagine perché è una mentalità che è più da il learning cioè faccio qualcosa che poi dopo così lo posso posso creare il learning object così non ho più bisogno del docente non devo rispiegare al mio alunno la cosa che non ha capito ho risparmiato un po' di lavoro diciamo questa è la parte che a me una cosa che molto spesso si riscontra quando si va dagli insegnanti che non hanno una formazione adeguata cioè non hanno competenze adeguate per l'utilizzo degli strumenti informatici a scuola ad esempio è che loro pensano che ci sia una stretta correlazione tra il software per usare la lavagna e la lavagna cioè pensano che la lavagna non sia un computer non si rendono conto che invece è un enorme tavoletta grafica se volete vederlo così è un mouse e fargli capire questa cosa vuol dire cambiare l'orizzonte gli fai vedere una prospettiva diversa vuol dire che non devono più usare il software per fare le lezioni semplicemente devono fare le lezioni in maniera diversa e questo è il nostro lavoro fondamentalmente cioè insegnare agli insegnanti di fare questa cosa ma non è facile perché vengono da anni di corsi di formazione dove l'unica cosa che gli dicono è come a file apri file chiudi file metti incolla la foto metti il video ma questo non ha nulla a che fare con la cosa principale dell'insegnamento che è la relazione con gli studenti e qua chiudo dico solo una parola velocissima anch'io sono in credito di caffeina quindi immediatamente andrò a prendere un caffè poi con me ho sia tastiero usb mouse e un picco proiettore per cui mi metto lì su un tavolo che voglia di vedere il raspberry pi funzionante lo accendo con voi ok quindi seguitemi grazie a tutti